bella ragazzi vi eccomi nel canale di fefele channel ragazzi sto guardando il video dell'evento di fortnite e mentre lo guardo sto facendo questo video qua sono due video in uno metterò sia il video di fort e sia la mia reazione ragazzi è spettacolare cioè sto vedendo adesso i robot che combatte con quella specie di lupo non so che cavolo sia però ragazzi è una cosa eccezionale cioè tu sei lì che ti vedi questi qua che si scandano in mezzo alla mappa tu sei lì che provi a prendere la picconate di provi a prendere come cavolo vuoi ma non puoi la vita è quello il fatto adesso ragazzi bando alle ciance guardiamoci il video in silenzio e bello 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 ragazzi voglio almeno 50 like per questo video che hanno fatto per questo evento di fortnite scusate se non sono stato in live però ho avuto i miei problemi sono stato con la ragazza con aurora però per il resto niente ragazzi mi sto guardando il video anch'io è una cosa spettacolare mi sto guardando il video è un'altra cosa spettacolare un'altra cosa spettacolare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.